Tale cane, tale padrone. Non è solo un modo di dire, ma un dato di fatto. Questo ragazzo pratica il downhill e la sua compagna a quattro zampe va con lui in pista. James scende a tutta velocità in sella la sua mountain bike, salta, evita sassi e radici mentre la sua cagnolina amber le fa da apripista o lo segue a ruota, come si dice in certi casi. E dopo mille acrobazie in mezzo agli alberi, una bella ciotola d'acqua e un po' di coccole per il cane più spericolato del mondo, quando si dice una coppia davvero affiatata.